La prima oggi pomeriggio a esibirsi sarà Giada, un brano oscuro che racconta le difficoltà e la ricerca continua di evasione e libertà dalle proprie prigioni. Una lotta il cui esito non è mai scontato. A voi Giada. La prima oggi è la prima. 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 La prima oggi è la prima.